Armando io sto raccogliendo i commenti a queste elezioni, tu che hai da dire? Mi è prescata, non è certo quello che non mi è prescato. Ah, pure tu pensi così? La penso di così. Ma senti un po', no, perché io ho detto pure a Mastro Santi, ma se te fossi caricato Armando Lola, 6-700 voti a protesta, tu che dici, l'avrebbe presi? L'avrebbe presi, sì. Eh, tutta quella gente che non è andata a votare ci sarebbe andata. Ci sarebbe andata sì, perché lui si è rovinato da soli. Eh, ci si è rovinato da soli. Qua se siamo tutti rovinati. Vabbè, va.